Stop agli scioperi. La CISL dei Laghi interviene sulla crisi della TBF, l'azienda di traslochi di Alba Villa. Il nostro è solo un atteggiamento responsabile e a tutela dei posti di lavoro, dicono dal sindacato, il cui intervento dopo gli scioperi è stato chiesto dalla maggioranza degli autisti e degli operai addetti al montaggio, che vedono messi in pericolo i loro posti di lavoro da un atteggiamento positivo a oltranza. Il diritto di sciopero è tutelato dall'articolo 40 della Costituzione e va difeso fino in fondo, spiegano dalla CISL. Si tratta di uno strumento importante che i lavoratori hanno per far valere le loro ragioni, ma non è un fine. L'obiettivo di un sindacato serio non può essere quello di scioperare, bensì di esercitare questo diritto tenendo conto delle compatibilità con la realtà in cui si colloca. Se l'azienda rischia di essere in difficoltà e di perdere quote di mercato, l'obiettivo, secondo la CISL, non può essere quello di aiutare l'azienda a fallire. Il sindacato si scaglia contro quel gruppetto di persone che si è autocostituito e pretende di tenere in ostaggio, con scioperi continui, la maggioranza dei lavoratori, ritardando le consegne e facendo perdere clienti all'azienda. Questo gruppetto non ha il diritto allo sciopero, semplicemente ne abusa, sottolineano. La TBF esce già da un periodo difficile ed è proprio per questo che la cooperativa, della quale fanno parte i lavoratori di Sol Cobas, la Logi Lead, ha perso l'appalto perché è chiamata a pagare una serie di penali per i ritardi accumulati nell'effettuare le consegne. La priorità per la CISL resta al mantenimento del posto di lavoro. Questo chiedono in primo luogo i lavoratori e le loro famiglie, spiega il sindacato. La CISL pensa che abbiano ragione, per questo li supporta e li sostiene nella loro azione.